ma cosa cazzo ne sto facendo della mia vita e salve potere degli anime mi chiamo ecco o eccio chiamatemi come volete tanto sbagliereste comunque e potere degli anime sì sono proprio io l'operatore più bannato in classificato e va bene vedrò di convincere la ubisoft a fare doc heavy in versione